ma tu partecipi alla direzione del pd o no ma insomma questo questo non mi considero no io questo silenzio no no ti rispondo traxiano direi no ti mi vuoi sempre inchiodare al passato no non mi considero così essenziale quindi ce vai no ma se ci andassi beh le cose che avevo da dire le ho dette anche qui penso che sia una follia correre dietro grillo e penso che le forze diciamo della ragionevolezza abbiano un compito che è quello di aiutare la politica a rimettersi su un binario più costruttivo il che implica sacrificio per tutte le parti in causa e un sacrificio particolare per la parte che oggi è in parlamento numericamente la più consistente